L'Italia è rinomata per numerosi prodotti agroalimentari, uno fra questi è senza dubbio l'olio exavergine di oliva, riconosciuto anche all'estero come prodotto made in Italy. Nell'ultima settimana, per garantire la tutela agroalimentare e preservare il patrimonio territoriale, il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, attraverso gli uomini dei nuclei antifrodi carabinieri, ha ordinato controlli della filiera di produzione di olio exavergine di oliva presso la zona del sud-est, in particolare nella zona tra la bassa Murgia barese e quella del nord del Salento Brindisino, dove sono presenti alberi di olivo secolari. Le verifiche hanno riguardato accertamenti sulla filiera produttiva e sulla conformità dei processi di trasformazione, sulle documentazioni previste dalla legge, la consultazione delle banche dati, nonché controlli riguardanti l'etichettatura. Sono state così evidenziate alcune irregolarità in ambito amministrativo e in seguito sono scattate diverse sanzioni amministrative. Sono state poi contestate 13 diffide per violazioni reversibili e sequestrati 15.000 litri di oli dichiarati oli extravergine di oliva senza la presenza di una documentazione di tracciabilità.